ULTIMATE CRAFT E' vero è vero è vero ci ho ripensato Ci ho ripensato perchè mi mancava qualcosa di fondamentale Due cose a dire il vero Una e l'ho trovata fortunatamente Andando dall'altra parte Sono andato verso la Verso il mare Ci mancavano i cactus I cactus i cactusini Fermati per fare i liquid I liquid proof Come si chiamano? Waterproof Waterproof pipe E ho trovato questo mini deserto Che è very very good Voila E ci prendiamo un po' di cactus Che ci serviranno Immancabilmente Voila Oh 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 E' impazzita la tastiera Perché impazzisce? Guardate io sto fermo Giuro non tocco niente Aio aio Forse quando me c'è caduta l'acqua Ok si è ristorato C'ho la tastiera dei cinesi praticamente Non che l'ho comprata dai cinesi Proprio dei cinesi Ok abbiamo preso un po' di cactusini Vediamo lì che c'è Qui c'è del sugar cane Non ci fa schifo Quindi noi la ciappiamo tutta E poi continuiamo l'esplorazione Perché l'altra cosa che ci manca E' un villaggio Voglio trovare assolutamente un villaggio Per rifornirmi ed i libri Ma qui c'è un cactus abbandonato a se stesso Ed i libri E soprattutto vorrei trovare l'apicoltore Il tizio che fa Che vuole le api Quindi Noi ci mettiamo in marcia Andiamo Laggiù c'è una chest No si laggiù c'è una chest Laggiù c'è un'isola Vediamo un po' Ah no già l'ho vista Ci mettiamo in marcia E cerchiamo un villaggio Quindi Beh auguratemi buona fortuna Ci vediamo A dopo Ciao squid Ciao Guardate che figata Un po' d'olio Anzi di petrolio Con dei gravi problemi Alla texture No 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 Non romperti Non romperti Stai calma Sì dei gravi problemi Alla texture E vabbè E vabbè Passeremo sopra a questo Spax Ricordatelo Sei la nostra preferita Dunque Io scendo da qui No dove vai E prendo Visto che ci sto Questa bella patite Ciao sabbia La patite Ci servirà Come il pane Oppela Oppela Un po' lento Questo piccone Usiamo quest'altro No 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 Aspettate Ho soltanto questo E si sta rompendo Usiamo quest'altro Pli plin In realtà Lo stesso uso Della patite Si potrebbe fare Con il compost Però la patite È decisamente Più comoda Per fare il Fertilizer Oh Spuca Un creeper Dal monte Là sulla Playa Spuca Un creeper Dal monte Là sulla Playa Non esplodere Cassiopea Adesso Mi cascano In testa Già lo so Mega Skull Creeper Tarara Tarara Sono curioso Ad andare a vedere Laggiù Andiamo a vedere Ho detto Ma chi Già si sta Facendo note Invece Era il Petrolio Quanto Ne stiamo Prendendo Oh Già quasi Due stack Very gold Andiamo ad esplorare Zan 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 No basta Caverne Non ne posso più Torniamo indietro Pop 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 Dai No No Ok Andiamo alla vostra Barca Che si chiama Teugidio Aio Eccola qua Via I Beh 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 Che cazzo È un deserto Abbastanza grande Uh Aspettate Se è un deserto Abbastanza grande Possiamo trovare Un'altra cosa Che ci manca Per fare la Eccoli 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 Fantastico Ferma 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 le rotative Voglio scendere Perché parte Eccoli qua Questi qui Due di questi Ci danno un Blade's Road Con la Minimum Stone E se ne trovassimo Altri Sarebbe anche più Più meglio Assai Vediamo un po' Intanto qui ci sono Delle api del deserto E noi ce le ciappiamo Una Modest Queen Certo che Che strano deserto Hop Hop Gadget Mmm Non ce ne sono altri Eh Nada De nada Aio Nada De nada Eee Va bene Va bene così Dai Ottimo Che ne abbiamo Tra di due Non piangiamo Sul latte Versato Anche se effettivamente Non l'abbiamo Versato E non vedo perché Dovremmo piangere Oh sta 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 tramontando Very dangerous Effettivamente Potevo portarmi un letto Laggiù c'è un totem Ma già ce l'abbiamo Sicuramente poi Soltanto di bellezza Laggiù ci sono Delle pecore Ci dà davvero di farci un letto E fermarsi No Andiamo avanti Però ci sono tante Pegure Effettivamente Vabbè Pazienza Andiamo avanti Andiamo avanti Si va tutti Qualcosa che fa Rimagoagna qua In Bretagna Trullalla Si va tutti In montagna Si va tutti In montagna Si va tutti In montagna Trullalla Perché non becco Mai un villaggio Non becco Mai un villaggio Non lo becco Mai un villaggio Non lo becco Ma un villaggio Non lo becco Ma un villaggio Trullalla Cosa ci fai lassù Che canti alla luna Pecure Giriamo, 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 gira, 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 gira E dai, su Mamma mia, manovrabilità scarsa Muori Oh, che bello salverello Oh, è quello della Miscraft Che abbiamo preso nella Miscraft Io lo ciappo Intanto sembra non esserci stronzi Speriamo che questa non parte come il suo solito Ok, non è partita Fantastico Ciappiamoci l'alberello Trulala Adesso se ci dai un sapling ci fai una cortesia Io qui metto Una torcia Due torce Tre torce Più di due Andiamo a guardarci intorno Lì ci sono delle pecore Niente di interessante, devo dire Niente di interessante Anche se queste pecore che stanno ferme e immobili Potrebbero avere la mia riconoscenza se morissero Comunque la lana fa sempre comodo Ci sono altri metodi per farla, però Guardate gli stronzi che si sono creati nel frambente Bingo 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 Creepa Creepa Knight Cascato de sotto E non ci ha dato un cassiopea Mamma mia Mamma mia Cazzo Disse il conte asciugandosi la fronte Morite Datevi la minion stone Bravo bravissimo Uno E dos Anche QBasic Frecce grazie per avermi ridato Quello che ho speso Questa la posso prendere? No E tu mi hai dato un saplinghino? Mi hai dato un cassiopea Brutta No eccolo qua acacia Perfetto Oh laggiù vedo qualcosa Che sia un altro continente Il continente nero Parabonsiponsipo C'è sta sicuramente nape Parabonsiponsipo C'è pure no scheletro Noilopia Mazza è forte adesso con l'arco ragazzi Sarò una vipa nel pvp Ma comunque con l'arco contro i mob Sono una bestia Alto Ho parlato troppo presto Vai a casa Vai a casa Queste che cosa sono? Modest A me servono le 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 No qui non ci vado senza barca Le 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 Ma come cavolo si chiamano? Oh dov'è la barca? Eh No ragazzi dov'è finita la barca? Dov'è la mia barca? Sono impazzito e non la vedo? Non c'è più Ma porca Incredibile Uh guarda che bel legno Bello 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 Mi gusta Comunque facciamoci una Crafting table E poi facciamoci la Facciamoci quella portatile Ok Ok Molto bene Poi facciamo così Leviamo tutte queste cosine Questo via Non ci interessa Via non ci interessa Via Questo Via Questo Che cazzo devo fare? Ah si una barca Giusto Via 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 Oh Ok Una E due A posto Facciamo così Qui sistemiamo Ovviamente Me l'hanno chiesto in tanti Quindi lo ripeto E' il tasto centrale del mouse Per sistemare Vi mettete sull'inventario E cliccate con la rotellina Ok Andiamo avanti lì Si va tutti in campagna Trullalla Quello è un creeper Ho finito le frecce Come ho finito le frecce? Ho finito le frecce Sto nella merda Ho finito le frecce Trullalla Dove siamo? Quanto lontano Lontano Di stiamo? Beh Mille Non male Mille Non è un Un numero spuzzoloso E' il caso Di tornare indietro E andare però Di qua Cucca è lentissima È lentissima Ho una mia impressione Vediamo Il senso di movimento È completamente a zero In minecraft Però vabbè E torniamo di qua Chi è quello? Che è? Che d'è? Ah è un pozzo di petrolio Quando avremo i soldi Ci faremo un pozzo petrolifero E diventeremo ricchi Ah boh Vi sveglio quando Arriva qualcosa all'orizzonte Ah dopo Abbiamo avvistato Una costa Non so se è una costa Di un paese sconosciuto Ma so soltanto Che non si vede Un villaggio manco Appagallo Ecco noi rimarremo Visto che la costa E' piena di stronzi Rimarremo qui Ma che diavolo Ecco la roba Boh Un vaggino grafico Ah è un arcipelago No Forse sembra proprio un'isola C'è qualcuno che si è buttato Oh A stronzi Nessun villaggio all'orizzonte Nessun villaggio Che cos'è quella macchia là giù E' un dungeon della towncraft Ci scommetto Fermi tutti ragazzotti Lì c'è un dungeon Dungeon Un dungeon della towncraft Allora Prendiamo le nostre Torce Usciamo dalla nostra cosa Che parte verso l'orizzonte Va bene E cominciamo A salire No quella è beautiful Che cazzo c'è Andiamo Ce la faremo Non ce la faremo Grande anche l'alba Al terzo giorno Guarda dov'est No era est Gandalf Decidete La scalata è ardua Quasi quasi Farebbi così Ok Via Adesso c'è lo stronzo E mi fa fare mille milioni di chilometri Di carpiato Eh Tu nonno Oh perfetto Stanno per morire Si va tutti in montagna Trulalà Ok Signori dobbiamo essere veloci Come un non so cosa Oh cazzo Oh cazzo No io voglio tutto Mortacci tua Sono pieno come un uovo Cazzo Cazzissimus Oh 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 che butto Butto questo Butto questo Butto questo Il secchiello Butto la lana nera Che cazzo Che cazzo è successo Si è aperto Oh Ho sentito un rumore strano E mi sono cagato sotto Devo ammetterlo Allora Mangiamoci sto pezzo di pane Siete pronti? E poi torniamo alla ribalta Via tutto Via tutto Qui che c'è Della resto Non ci interessa Ciao Oh A bastarda Maledetta Che cacchio te voli Schifosa Ultima degli ultimi Io ci provo Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Oh 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Pidelander 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 Erkul Ah È stata dura Ma armati di piccone No vabbè Non c'è tra niente Ok Fantastic Andiamo avanti Gira qui Gira di là Un vulcano Un vulcano Un vulcano sotto No guardate Che bello Questo Oh vedi Eloran Fa le cose bene In mezzo al cazzo Questo qua Sì un altro secchiello Di lava Me lo prendo Oh Cristo Cristina d'avena Ho buttato anche il legno No ce n'è un'altra Che culo Buttiamo i cartelli Perché ho i cartelli E' una cosa curiosa Si va tutti In montagna Trullalla Si va tutti Sul vulcano Trullalla Si va tutti Sul vulcano Si va tutti Sul vulcano Speriamo Che non fa la fine De Pompei Eccola Ciao caralava Ciao Ti prendo Ciao Si ti mangio Aha Opla 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 Via Circo Navichiamo Questo Questo posto Armeno Per vedere Se riusciamo a trovare Sto fottutissimo villaggio Perché davvero Dai su Dai Ci servono le carote Ci servono le patate Ma soprattutto Voglio trovare il tizio Che vende Le pagine Della Misscraft And Il tizio Che vende le api Soprattutto Per zottargli I primi due Apiari Arpiari Quelle cose là Perché non ho Davvero voglia di fare Lo squizer Per l'oil Dei cosi Ah si In questa serie MK Farà le api Cioè Ovviamente Non le conosco Quindi Per sentito dire E per quello che ho provato In un mondo in creativa Sono riuscito ad arrivare Fino a un certo grado Di ape Poi è ritornata A base Mortacci sua Riuscirò Anzi Riusciranno i nostri amici Ma guarda che bella Che tecnicamente è Si può zoomare Al contrario Io vorrei zoomare Al contrario Dai zoomati Dezoomati Lì è rosso Fuego Su Barchetta Dai Coraggio Vabbè Vi richiamo Quando c'è qualcosa Interessante Ah Dopo Tadam Sapete da quando Ho interrotto La registrazione Da là Vedete la cosa rossa Ho fatto Qui ho detto Vabbè Fammi vedere Dentro l'entroterra Tadam Aio Andiamo avanti Allora Non mi ricordo Se ho da mangiare Ergo Comunque subito Prendiamo dei porci Porci Ho detto di prendervi Porci Perfetto Allora Qui ci sono gli stronzi Allora Visto che questi stronzi Voi state calmissimi Qui c'è del grano Ma non è che ci interessi Tanto Andiamo subito A vedere Se Tu sei strano Tu sei strano E ci dai la glowstone Non me ne vedo Assolutamente Niente di niente Tu ci dai Vabbè Vattela a piander Ah ah Tana Tana per Mesmedo Mesmedone Allora Qui ci dobbiamo Assolutamente Fare un waypoint Ah intanto Mesmedone No Do cazzo è andato Mesmedone Questo che vuole Uh il Nitor Guardate che bello Pacciato Io non ti volevo picchiare Uh Lana per smeraldi Oh che carino Che sei Ah no Sei sempre lo stesso Allora Questi qui Sti tizi adesso Noi li chiudiamo Dentro Perfetto Allora Intanto Visto che adesso Quelli sono al sicuro Andiamo a vedere se c'è Qualcosa E soprattutto se c'è il fabbro Vediamo Qui non si direbbe Qui c'è una torre Qui c'è dell'acqua Uscita proprio a Cassium Decane Perché c'è sto blocco qua Vabbè Non indaghiamo Non indaghiamo Si può boccare Qui ci dovrebbe essere una cassa E infatti c'è Con Frammenti verduti Un Alumentum Allora facciamo così Vorrei 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 Levarmi la dirt Prendere questo Buttare questo stick qua Rubare questa Grazie Prendere questa legna Buttarla E rubarmi Anche un po' di questo La sopra non c'è niente Di solito Ho delle carote Perfetto Facciamolo con questo Vai Ah non posso prenderle Sono un nabbo Sono un nabbone Ok Questo facciamolo diventare così Saliamo qua sopra E qui ci mettiamo il waypoint E ci mettiamo anche delle torce Ci mettiamo delle torce Però mi sa che ho visto Che quello delle api Non c'è E vabbè Ehm Villaggio Uno Oddio Come cazzo si scrive Villaggio Mamma mia Ok Perfetto Adesso sbroccoliamo dentro Eccoci qua Allora intanto Gli inculiamo tutte le librerie Perché i libri Ci interessano Paricchio Parecchio 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 Voilà Siamo pieni Ehm Posiamo la nostra chest Con tutte cose Very good Ehm Abbiamo 8 di legno 8 di legno Ci prendiamo Un altro pezzettino Di legno Da qua 1 E 2 Ah ma no Ma ho la pocket Pocket Pescas E facciamo Via la lava E dai E su E dai E facciamo un'altra chest Mettiamo qui Mettiamo qui la robetta Via questo Via questo Via questo Via questo E ci incuriamo assuramente le pagine Tadam Ok anche il lectern Non potete uscire Mi prendo anche il coso Il note Qualche cosa Come si chiama Ah no Il writing desk E qui ci abbiamo Il tizio che per gli smeraldi Ci da una pagina E E Sì Il tizio che per la lana Ci da Lo smeraldo Perfetto Allora vado a controllare Giusto appunto Se c'è Però ho finito il legno Ho finito il legno Ho finito il legno Accidenti Accidentaccio Vediamo se ci riesco da qua Che cacchio vi guardate Ah Steronzi Ok State calmi Cosa volete voi Perfetto Entrate dentro Vai Entra No devi entrare dentro Vabbè Ti chiudo Tu cosa fai qui dentro No ma io non ti ho picchiato Giuro Perfetto Qui abbiamo detto Che non c'è niente Nessuno Non abbiamo trovato Il tizio delle api Sono davvero Davvero triste Andiamo a prendere Eh sì Le pecore Andiamo a prendere Le cose Le Queste Le carote Oh ciao Creeper Come va Tutto a borno Tutto a borno Tutto a borno Tutto a borno Lascia che ti spieghi la mia spada Ecco qua E vedi che non ti entrano in testa certi concetti Ti 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 prendiamo questo qua Caro se ti butti da lì ti spacco il culo Ok Eh purtroppo è notte Bene Io farebbi così M Sì Waypoint Casa Teleport 2 Very well Ah ho allargato casa Non ve l'ho detto Mi dispiace Ho messo anche dei cartellini Quindi facciamo così E posiamo il tutte cose Ora qui ho un sacco di questa E noi Noi non possiamo fare Anzi Non dobbiamo fare altro che fare così E così E ce ne da un bel po' 22 Purtroppo non ci bastano Ma non ci fermerà niente Non vi preoccupate Questo è del grano Che però è poco È notte Andiamo a dormire Giusto? Giusto Ta 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 Montagna Trulala Sta ancora piovendo Vediamo un po' Vediamo un po' Quanto bombillo Possiamo avere No vabbè Ma chi se ne frega Abbiamo anche dei semi Le carote Il beta carotene fa bene La pelle all'occhi Però è meglio se voi lo magnate E E rientriamo al villaggio Waypoint Villaggio 1 Teleport 2 Eccoci qua È giorno Speriamo che tutti siano bene Entriamo qua dentro Bella per te Allora Tu ciccio Perfetto Mi dai Uno smeraldo Non ti emozioni? Aha Ti sei emozionato eh Ma vaffanculo Ti do 10 gravel E uno smeraldo E tu mi dai 5 flint E se prendo i 10 gravel E le rompo Mi dai 5 flint Ah santa pace Non c'è ragionevolezza Ah 5 mele Ottimo Tundra biomes Vabbè Allora qui mi prendo tutte cose Posso lasciarmi qualcosa di Oh altra lana Vabbè Non ci arrivo comunque Che mi lascio per il ritorno Queste che cazzo ci faccio Boh Lancioso Per il ritorno Vi lascio queste cosine qui Intanto prendo questo Logix program Vattela pescas E ritorniamo di là Casa Dolce casa Ok Api qui dentro Così vi dico pure Quello che ho fatto Tecnologia Gemme polveri E Xicraft La mettiamo qui Anche questa è una gemma Da considerarsi Lingotti Li mettiamo qua Magia Alumentum Libri Page Lectern And Write indexed E anche le bottigliette Va Qui c'è tutta la natura E i drop dei mostri Quindi questo Questo E però questo che è un comb Delle api Che mettiamo qua Nei lingotti Ci mettiamo anche No Li mettiamo qui Lo smeraldo Nella tecnologia Non ci mettiamo Assolutamente niente Quindi mettiamo Il glowstone qui Materiale di costruzione Qua Oh ma c'è un altro 17 Vabbiamo tanto Che ci facciamo adesso Nelle cose Precius Dove stanno Ci ho messo anche Lo shard of minimum Basta Direi che Ci abbastino Facciamo così Ah no Devo posare queste altre cose Che le poserò Qui Qua E qua Very good Ritorniamo a quel villaggio E assicuriamoci Che non ci sia Il tizio delle api Perché sto rosicando troppo Sto un parecchio rosicando E soprattutto Non c'è neanche il fabbro Pensavo di un po' di sbronzo Di ottenerlo Invece Niente Salve Si può buccare Qui non c'è Qui non c'è Fabbro Fabrizio C'è un fungo Ma come tartate Casa vostra Ma che schifo Questi escono adesso Vanno a fare baldoria Ehi Ciccio No non te li do Assolutamente no Ti fossi Nammazzare là Ma che Ma che vi fumate Ma che è qua roba Uh A vulcane Allora io qui romperebbi Poi faccio così E rientro qua dentro Un attimo Bella Qual era quello che voleva Quello che voleva Questo ne vuole tre No sono troppe Mi dispiace Arrivederci Ah dobbiamo prendere le nostre cose Ta 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 La rompiamo qui Lasciamo lo spazio libero E richiudiamo Magari richiudiamo ancora meglio Va Che è in porciance Quello Quello è molto in porciance Oddio ma laggiù c'è un altro villaggio Che culo Che culo cazzo Dai 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 Incrociamo tutti le dita Incrociamo tutti le dita Già non lo vedo È più piccino No ce l'è Ce l'è Ce l'è Ce l'è Ce l'è Dovrebbe essere quella struttura grigia laggiù Dai 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 coraggio per i nostri amici Il suono è ancora alto Perfetto Coraggio 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 Eh cosa Dove cazzo stanno Io rompo tutto Spacco bottiglia Ammazzo famiglia Distruggerne Ecco il new box con la mela Wow Sì vabbè l'allero Ho trovato Non ne ho trovati mai Adesso ho trovato due villaggi attaccati Però spero di trovare quello delle avi Anche se non mi sembra di vederlo Ci sono un sacco Sì Sto zonzando No io non volevo mangiare la patata Sto prendendo un botto di patate Guarda adesso quello che mi da Che vuole il grano per gli smeraldi non lo becco Cioè tipo ce n'ho un botto Scusate ma sto Decespugliando tutto Così non ci dobbiamo smarmagliare le palle quando Ci servirà del grano Per le nostre gallozze Allora se non c'è quello della miscraft Mi incazzo Se non c'è quello delle avi Mi incazzo due volte Quindi vedete un po' De fa attenzione State carmi Allora tu che dai Fermati Sì vabbè no Ok ok C'ho soltanto 4 stack di ferro Tu Tu Questa è assurda Mi cimpallo su questa Cioè io ti dovrei dare 5 di gravel Che già mi danno 5 di flint Ed uno smeraldo Che senso di contrattazione hanno queste persone Ancora Non è tipo giallo quello delle api Sì c'ha tipo la tuta per Per non farsi pungere Mi sa che non c'è ragazzotti Però vedo Vedo lassù Una struttura Porco Porco Vedo lassù Una struttura Andiamo a vedere un bogo Un bogo Stiamo vedendo un bogo Sì 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 cazzo Sì cazzo È il fabbro È il fabbro chiuso dentro E noi lo apriamo Dai qualcosa di precious Tipo qualcosa di tranquillo La portal gun Beh lo steel Beh nove lingotti di steel Quattro di bronzo Questa me la brucio E mi da No un lingotto solo Non conviene E cinque tantium verde Beh non è male Devo dire che non è male Il tantum verde Eh lo so però si chiama tantium Mi prendo queste fornaci Perché sono Ivo avido E mi prendo queste bar Per lo stesso motivo In realtà Grazie mille Beh qui è finito il villaggio No questa qui è la casa Dei nostri sogni Sono sicuro Sono sicurissimo E si è appena rotto il piccone Dai Dai No però ci sono dei libri Schifo non ci fanno Schifo non ci fanno Però non c'è un cassio In questo villaggio di interessante Che palle Bella zi Mi dai quattro di vetro L'introvabile vetro Questo villaggio è un pacco Il pa Oddio Si è salvato il mondo Tu che mi dai lì che stai Tipo all'abbenito Oh niente di che Non c'è niente Oh sono stato sfortunato Sono stato davvero sfortunato Quell'altro ci sei già andato? Sì Però ho trovato soltanto Il tizio della Miscraft Oddio Soltanto È in porciance Però volevo quello delle api Per iniziare subito con le api Cioè metterle Perché è molto lento il procedimento Quindi Quindi Nigni 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 Io riprovo con voi Riprovo con voi Niente siete dei babbeoidi Non siete utili affatto Mi sono sempre chiesto Perché non ci mettono qualcosa di interessante Alla fine del pozzo Però vabbè Ragazzotti 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 Io voglio un villaggio Quindi adesso vado a vedere che ore sono E cioè quanto ho registrato E poi Decidiamo se andare avanti o meno A dopo Sono andato avanti a piedi E si è fatta notte E adesso sono qui Ho trovato un bell'albero E visto che non ho niente da fare Vorrei vedere se riesco No Non ho legna Vabbè uso la sua Uso la sua stessa legna Prendiamo un po' di Questo qui Che è il Great Wood De Della Come si chiama Della Towncraft E purtroppo per lui Ci facciamo Ci limitiamo a farci Del No Non lo fa Non lo fa Non lo fa Cazzo Cazzo Pea Si cuocco e si Solo nel Carpenter Niente Allora sono bloccato qua Mi metto a disposcare l'albero E poi vedo se riesco Entro questa puntata Ragazzotti Se no viene troppo lunga E se no ci vediamo No facciamo così Ci vediamo direttamente Nella prossima puntata Ciao a tutti Ho una condizione di merda Ciao a tutti